Musica Attività di prevenzione contro i tumori al collo retto al centro commerciale in Ormanni di Aversa In occasione della festa del papà, domenica 18 marzo, presso il centro commerciale in Ormanni di Aversa l'ASL di Caserta, in collaborazione con l'associazione Il Coraggio di Briciola effettua attività di prevenzione contro i tumori al collo retto con la consegna del kit per tale controllo In più ci saranno tanti giochi ed attività per i bambini